Nel nome e nel ricordo di Valentino Di Bartolomeo, storico e stimato comandante nelle case circondariali di Pescara e Chieti e già presidente fondatore della sezione pescarese, il capologo adriatico ha ospitato il quarto congresso nazionale ieri e il sesto raduno nazionale dell'Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria, con oltre 500 partecipazioni di sezioni provenienti da tutta l'Italia, isole comprese. Vivono una giornata insieme di ricordi ma soprattutto di orgoglio perché questi uomini che ancora oggi, pur essendo inquiescenza, sanno di essere utili alla società perché essere poliziotti non si può dimenticare, non si può disperdere quando uno va in inquiescenza e quindi nel DNA scorre sempre il desiderio di essere al servizio del paese. Poliziotto che è a fianco ai più umili, è a fianco alle persone più bisognose di questo volontariato e di questo apporto che noi come Polizia Penitenziaria possiamo dare. L'evento si è aperto in mattinata con la deposizione di una corona al monumento dei caduti. La sfilata ha poi preso le mosse da Piazza Sacro Cuore per raggiungere, percorrendo Corso Umberto, Piazza della Rinascita. Ad accompagnarla la banda della Polizia Penitenziaria, tanti bambini con bandierine tricolore, i labari delle associazioni combattentistiche e di vari comuni dell'area metropolitana Chieti Pescara. Sul palco, tra gli altri, in fascia tricolore, i sindaci dei comuni che hanno segnato la vita del comandante Di Bartolomeo. Che ricordo ha di Valentino Di Bartolomeo? Per me è stato come un fratello, ho fatto il corso con me da commissario, è stato con me a fianco a fianco nell'aula quando studiavamo e quando esercitavamo e poi io ero una persona solare, solare perché ricordo un episodio, nella visita fatta al Sommo Pontefice, Papa Francesco, si è tolto la sua bustina e l'ha messa sulla testa del Papa. Ecco, questo era Valentino Di Bartolomeo. Fa parte del nostro mestiere rispettare l'uomo, la dignità dell'uomo, quale sia l'errore che può aver commesso. Tra l'altro può capitare a tutti noi, ai nostri figli.